Abbiamo affrontato una squadra che nel giorno di ritorno, se non sbaglio, su 17 partite ne ha perso soltanto una e questo testimone del fatto che comunque merita di essere dove è stata fino adesso. Sono state due partite molto difficili, complicate. Abbiamo provato ad affrontarle nel modo migliore, purtroppo però non ci siamo riusciti. Adesso è gara 3 in casa e come si dice solitamente siamo alle corde e proveremo a vincere, a aumentare l'entusiasmo e provare a ribaltare la serie. Come abbiamo fatto anche in settimana sui social, noi non ci siamo dati per morti, siamo ancora in gara. È vero che siamo sotto da zero, però abbiamo visto anche l'iniziativa della società di aprire la Curva Sud che comunque è da parecchi anni che non era aperta. Per questo siamo molto fiduciosi e speriamo che comunque sia il nostro pubblico ci venga sostegno perché ne abbiamo veramente bisogno, soprattutto in questo momento. Poi quello che verrà in campo si vedrà dopo, però noi confidiamo nell'apporto del pubblico. Dobbiamo pareggiare la loro intensità e la loro fame, cosa che forse ci è mancata in queste due partite. E poi quello lo dirà il campo. Alla fine noi veniamo anche da una serie come San Vendemiano, dove in gara 1 siamo partiti e abbiamo perso di 20, però poi non ci siamo disuniti e siamo riusciti a ribaltarla sul 3-1. Questa volta siamo su 2-0, però mai dire mai. Noi stessi giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e per noi può essere un fattore importante come siamo riusciti a vincere le due gare precedenti e proveremo a fare su questa scia.